Già più di 2.300 progetti da parte di 1.150 comuni. Il piano Marshall, lanciato da Regione Lombardia per rimettere subito risorse fresche nelle casse degli enti locali e favorire la realizzazione di opere pubbliche con il virtuoso coinvolgimento delle imprese del territorio, in meno di un mese ha fatto capire quanto fosse forte il bisogno di misure economiche di sostegno in questa fase di ripartenza post-Covid. Lo stanziamento complessivo deciso da Palazzo Lombardia è di 3 miliardi di euro tra il 2020 e il 2022, con una disponibilità immediata di 400 milioni. I primi segnali, commentano il Presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore agli enti locali e piccoli comuni Massimo Sertori, sono certamente positivi. Su 1.506 comuni presenti in Lombardia abbiamo avuto riscontri importanti con la presentazione di molti progetti di opere cantierabili entro il 31 ottobre di quest'anno. Si tratta di interventi necessari ai singoli territori che aiuteranno concretamente a far ripartire un comparto centrale come quello connesso alla realizzazione delle opere pubbliche. Fino al 31 luglio è prevista la raccolta di segnalazioni con la facoltà degli enti locali, comuni e province di confermare o integrare alla Regione le proprie progettazioni. I numeri che abbiamo raccolto, continua Sertori, confermano le nostre aspettative. Le amministrazioni stanno rispondendo con entusiasmo perché abbiamo lasciato loro la possibilità di scegliere con molta libertà come investire le risorse assegnate in base alle priorità e alle esigenze delle singole comunità. Si tratta di un provvedimento molto semplificato dal punto di vista burocratico. Lo scopo, sottolinea l'assessore valtellinese che ci siamo subito prefissati, era quello di dare risorse da spendere in breve tempo per attivare cantieri e garantire lavoro. Visto il successo è molto probabile che questa misura sperimentale possa essere replicata anche nel 2021. Anche la provincia di Sondrio si è fatta trovare pronta a questa opportunità. Sono 109 da parte di una sessantina di comuni i progetti presentati che riguardano i più disparati ambiti delle opere pubbliche, viabilità ai parcheggi, urbanistica, riqualificazione ambientale, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici scolastici.